Paura per una rissa fra extra comunitaria avvenuta questa mattina ad Eboli nei pressi del supermercato Lidl. L'alterco ha visto protagonisti un giovane africano ed una coppia, entrati in contatto per ragioni ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio il ragazzo africano che avrebbe perso molto sangue. Il fatto è stato segnalato sui social network da una testimone.